Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Faremo un focus a breve sull'allarme e siccità che colpisce il po' ma non solo pesanti le ricadute sul territorio e non solo sull'agricoltura ma parleremo anche di cronaca purtroppo con un incidente mortale ieri in provincia di Ferrara ma se parliamo di eventi anche di provincia ci sono diverse iniziative che hanno caratterizzato questo fine settimana come il Carnevale di Cento ieri sera che ha chiuso l'edizione della rinascita e poi vedremo le immagini della Bike Night e se parliamo di sport ieri ha esordito il quarto spallino in nazionale maggiore nella storia bianco azzurra Salvatore Esposito che ha appunto giocato contro l'Inghilterra ieri sera ma apriamo questa edizione con il referendum e con le elezioni perché a Ferrara in provincia si sta votando come in tutta Italia per i cinque referendum abrogativi sulla giustizia a Terre del Reno si sta scegliendo anche il sindaco a metà giornata era bassa l'affluenza le urne in territori estense come in tutta Italia perché il referendum sia valido bisogna raggiungere a livello nazionale il 50% più un voto la percentuale di affluenza più alta nel ferrarese si è registrato ovviamente a Terre del Reno qui gli aventi diritto stanno scegliendo anche il prossimo sindaco in Lizza Lodi sindaco uscente dell'area del centrodestra e Margutti dell'area del centrosinistra l'affluenza per le elezioni amministrative a Terre del Reno a metà giornata era più bassa rispetto a cinque anni fa e lo spoglio per scoprire chi sarà il prossimo sindaco di Terre del Reno inizierà nel pomeriggio di domani intanto le urne sia per il referendum sia per le amministrative a Terre del Reno chiudono alle ore 23 di domenica e parliamo adesso appunto di siccità una crisi idrica che sta investendo il po' con valori mai visti negli ultimi 70 anni e questo l'allarme lanciato dall'autorità del fiume del bacino padano che ricorda come sia alto il fabbisogno di acqua in questo periodo ma sarebbero in esaurimento tutte le disponibilità allo scenario molto critico poi si aggiungerebbe la previsione di mancanza di piogge e il persistere di alte temperature sopra la media nei prossimi giorni ma sentiamo Meuccio Berselli che è il segretario dell'autorità che controlla il Po La situazione sta diventando drammatica perché oltre al fatto di avere una portata limitata e le piogge stanno mancando abbiamo altri due fattori molto importanti la temperatura è più alta di 2-3 gradi in alcuni punti anche 4 gradi rispetto alla media del periodo e manca completamente la risorsa della neve e quindi il magazzino e lo stoccaggio in montagna quindi abbiamo delle aree che possono rimanere senza acqua e allora bisogna innescare uno spirito di sussidiarietà tra i territori per cui i prelievi vanno controllati vanno verificati e dobbiamo portare acqua a tutti altrimenti dobbiamo intervenire immediatamente con la protezione civile e quindi col dipartimento la situazione è davvero molto delicata Quindi si cita pesanti le ricadute anche sull'agricoltura la cui acqua risultava lo sappiamo fondamentale per la produzione col diretti stima oltre un miliardo di danni di euro nei campi di tutta Italia pesanti anche le ricadute nel ferrarese La mancanza di precipitazioni starebbe causando gravi preoccupazioni per i produttori agricoli e il conseguente rischio sulla disponibilità di cibo e quanto sostiene col diretti che evidenzia come la siccità abbia già determinato danni per oltre un miliardo di euro a seguito del calo delle produzioni agricole è necessario agire nel breve periodo per definire le priorità di uso delle risorse idriche ad oggi disponibili sottolinea l'associazione di agricoltori che chiede la precedenza al settore per garantire la disponibilità di cibo prevedere uno stanziamento di risorse finanziarie adeguate per indennizzare le imprese agricole per i danni subiti a causa della siccità e favorire interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo volte ad aumentare la capacità di accumulo dell'acqua nei campi sottolinea col diretti manca l'acqua necessaria di regare le coltivazioni che si trovano in una situazione di stress idrico produzioni quindi a rischio per col diretti in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate aggiungono dall'associazione a preoccupare oltre all'abbandono sempre maggiore delle coltivazioni di riso la riduzione delle rese di produzione delle coltivazioni in campo come mais grano e altri cereali una situazione già pesante dice col diretti in un momento difficile a causa della guerra in ucraina cronaca adesso tragedia ieri nel tardo pomeriggio a colonia nel comune di riva del po un ottantenne del luogo è deceduto nel corso di un incidente stradale il pensionato era in sella la sua bicicletta in via macchiavella poco dopo le ore 19 quando un'auto lo avrebbe travolto immediato l'intervento dei soccorritori sopraggiunti anche con un'ambulanza e un'automedica ma per l'ottantenne non ci sarebbe stato nulla da fare sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro stradale e ora parliamo di coronavirus vediamo insieme i dati più aggiornati dall'ultimo bollettino sono 129 i nuovi positivi nel ferrerese al coronavirus territorio in cui però non si registra fortunatamente nessun decesso per complicazioni apportate da covi e quanto emerge dall'ultimo bollettino l'aggiornamento in emilia romagna registra più di 1800 nuovi casi e oltre 1300 nuovi guariti un decesso un uomo di 83 anni di rimini a livello regionale dove la pressione ospedaliera è leggero aumento rispetto al bollettino precedente il pnrr la parità di genere a ferrara aspettative e realtà è il titolo del seminario promosso dal gruppo femminile fare diritti un nome evocativo e carico di significati simbolici che indica una direzione di marcia ma vuole anche incuriosire e provocare domande una tra tutte per la parità di genere in italia a ferrara basterà il pnrr ma sentiamo si rivolgono in modo prioritario le donne le 12 fondatrici ferraresi del gruppo fare diritti e lo fanno sia con il sito fare diritti.it sia con questo primo seminario il pnrr la parità di genere a ferrara tra aspettative e realtà che vuole mettere in evidenza se e quanto il vincolo della parità di genere imposto dall'unione europea ai fondi del pnrr sarà davvero tenuto presente da chi fa i progetti con l'obiettivo come recita il piano di fare dell'italia un paese nuovo moderno inclusivo sotto il segno della rivoluzione digitale della transizione ecologica e dell'inclusione una parola difficile che allude ad una vera e propria rivoluzione in fatto di diritti che ponga fine alle disparità che tuttora esistono nel nostro paese tra i generi tra le generazioni e tra i territori tutto questo nell'arco di sei anni tant'è la durata del pnrr in questo tempo breve si può se si vuole avviare il cambiamento utilizzando gli oltre 200 miliardi messi a disposizione dell'italia dal next generation europe il grande programma di rilancio dell'economia europea dopo la crisi pandemica e questo vale per il paese come per i singoli territori regioni province città il seminario del 16 giugno in camera di commercio vuole portare l'attenzione delle ferraresi e di ferraresi sul piano ancora oggi una sorta di mistero per la maggior parte delle persone usando un linguaggio comprensibile e mettendone in luce la concretezza anche perché non resta un'azione piovuta dall'alto o non diventi terreno di propaganda partitica d'altra parte dicono le fondatrici di fare diritti che invitano altre donne ad aggregarsi a loro se il pnrr deve attuare una vera e propria trasformazione del paese ecologica digitale culturale sociale scolastica sanitaria come potrà riuscirci senza la partecipazione convinta delle cittadine e dei cittadini fare diritti intende monitorare i progetti locali dall'ottica del diritto al lavoro delle donne condizioni imposta dall'europa per ottenere fondi lavoro significa autonomia economica ma accanto a questa servono anche più leadership femminile più digitalizzazione più formazione scientifica un migliore rapporto fra tempi di lavoro e di vita privata riduzione delle attività di cura modelli culturali svincolati dal dominio del patriarcato non è vero che la parità di genere in italia stia diventando realtà ha detto al festival dell'economia di trent una settimana fa l'indalora sabadini chair di women 20 direttrice istat sono i numeri a dircelo a fine anni 70 il tasso di occupazione femminile era 33 per cento oggi siamo appena al 50 per cento in fondo alla graduatoria dei paesi europei la parità di genere non è ancora considerata tra le priorità del paese anche se ci dicono il contrario e soprattutto anche se autorevoli ricerche di economisti ci dicono che un massiccio ingresso delle donne nel mercato del lavoro basterebbe ad alzare il prodotto interno loro dell'italia forse anche più di quanto non sarà in grado di fare il pnr in questi sei anni senza l'apporto decisivo delle donne cambiamo totalmente argomento andiamo in provincia di ferrara per parlare di eventi del carnevale di cento ultimo atto ieri sera nella città del guercino festa grande a cento per l'edizione della rinascita del carnevale d'europa dopo gli anni difficili della pandemia quinta e ultima giornata sabato sera e notturna per l'edizione 2022 tornata dopo lo stop forzato dell'anno scorso e l'edizione dimezzata dal lockdown nel 2020 il gruppo dei toponi con 450 punti si sono laureati campioni dell'edizione 2022 del carnevale di cento con il carro manco per il diavolo seconda edizione consecutiva vinta dai toponi secondi classificati i ragazzi del guercino a seguire il fantasticento poi mazzalora e infine il risveglio grande festa quindi nella città del guercino che è seguita poi con il testamento e rogo di tasi come da tradizione e poi lo spettacolo pirotecnico alla rocca di cento dopo lo stop causa pandemia è tornato così il carnevale d'europa e l'appuntamento ora sarà per il prossimo anno il 2023 quando la festa tornerà nel suo periodo classico in inverno e la prima data sarà domenica 5 febbraio 2023 il ferrara film corto festival nella serata delle premiazioni finali ha incoronato alessandro siani col premio città di ferrara alla carriera e alla valorizzazione del territorio una targa che è stata consegnata ieri sera in sala estense al celebre regista e attore in città lo sappiamo per le riprese del suo nuovo film dal titolo tramite amicizia sentiamo allora la sua dedica alla città durante la premiazione faccio un imbocco al lupo grandissimo la città merita merita tanto io ho girato un po' per la città ho visto le biciclette diciotto diciotto lì diciotto lì ti penso a bene come serva cinque notte graffi sì 18 mi dici il pane classico il rara c'è meramente che sto facendo il fisico del cappelletto però la grandezza secondo me del cinema è proprio questa di scoprire di riscoprire soprattutto di far vedere a tante persone, anche quelle che magari non hanno mai avuto il piacere di essere da queste parti, una città ricca di cultura e soprattutto piena di una cosa che secondo me stiamo andando un po' a mancare negli anni, che era l'ospitalità, quindi abbiamo trovato una grande ospitalità e questo ci fa piacere tantissimo. Sport adesso esordi e nazionale maggiore per il giocatore della SPAL Salvatore Esposito ieri nella gara Inghilterra-Italia di Nations League al 64esimo, il centrocampista Bianco Azzurro ha fatto il proprio esordio nel corso della gara giocata allo stadio di Wolverhampton Esposito è subentrato al regista giallo-rosso Lorenzo Pellegrini, rimanendo in campo così per quasi mezz'ora, l'incontro è terminato a reti inviolate, Esposito così è il quarto giocatore bianco-azzurro di proprietà della SPAL a scendere in campo con la maglia della nazionale maggiore, in precedenza avevano indossato la maglia azzurra, il portiere Bugatti, l'attaccante Fontanesi e il laterale Lazzari. Gli azzurri saranno così impegnati tra tre giorni, martedì prossimo, 14 giugno alle ore 20.45 al Borussia Park di Mönchengladbach contro la Germania nell'altra sfida di Nations League che vede appunto l'Italia prima in classifica al momento. E adesso parliamo della Bike Night perché la notte dell'Emilia Romagna in bici, la notte più lunga dell'anno per gli appassionati, si è tenuta ieri e hanno partecipato circa 900 ciclisti che hanno raggiunto il mare partendo da Ferrara. Sentiamo e vediamo le immagini. La passione per la bici è rimasta sveglia tutta la notte, è stata la festa della bici, la Bike Night Miglia Romagna 2022 che nella notte tra sabato e domenica, 12 giugno, ha illuminato la destra poda a Ferrara al mare con 900 ciclisti di tutte le età provenienti da ogni parte d'Italia. Giunta all'ottava edizione, la Bike Night da Ferrara a Lidovolano ha segnato la via del tour delle pedalate notturne di 100 chilometri organizzate da WeTour, tante cicliste oltre il 20% del totale, tanti anche i giovani e meno giovani, di gruppi di amici, famiglie e con bambini al seguito, il 60% dei partecipanti, dicono gli organizzatori, provenivano da fuori provincia. Raduno da Piazza Trento Trieste alle ore 21 di sabato, poi dalle 23.30 all'incolonnamento dei ciclisti sul listone e a mezzanotte la partenza a direzione mare, 100 chilometri davanti, il percorso cicloturistico lungo la destra po' ha previsto tre ristori, a Ro, a Serravalle e a Santa Giustina, fino alla colazione a Lidovolano direttamente in spiaggia. Prossime tappe Milano-Lago Maggiore il 25 giugno e Alpe Adria con partenza da Udine il 23 luglio. Parliamo dei premi Panathlon, qualche sera fa alla serata dedicata alla consegna dei riconoscimenti agli atleti che nelle ultime stagioni si sono distinti per risultati sportivi e scolastici. Allora sentiamo la presidente del Panathlon Ferrara, Luciana Pareschi. Luciana Pareschi, nonostante la pioggia si è conclusa e si è svolta nel migliore dei modi la serata dei premi Panathlon con cui si è conclusa la stagione 2021-2022 del Panathlon Ferrara. Sì, diciamo proprio nonostante la pioggia perché ce l'abbiamo vista brutta a un certo punto però abbiamo avuto la possibilità lo stesso di svolgere la nostra serata anzi è stata una serata molto più goliardica di quella istituzionale che normalmente svolgevamo siamo stati molto contenti sia per l'affluenza sia per la presenza dei ragazzi che non è mancato neanche uno tranne uno che naturalmente si è fatto rappresentare dei genitori perché era l'affari capitati del mondo al che non potevamo di certo metterlo assente e direi che tutto sommato il momento che è il momento clou per il nostro Panathlon che è quello dell'assegnazione dei premi quest'anno ha voluto dare un premio ulteriore in quanto abbiamo dato delle menzioni a quelli che naturalmente erano fuori età per avere il premio Panathlon menzioni che sono date naturalmente ad atleti con dei grandi risultati a livello europeo, a livello mondiale quindi è stato veramente di alta qualità la scelta che abbiamo fatto Un ruolo particolare questa sera lo hanno avuto gli atleti del CIP Sì, direi che veramente è stato importante per noi questa selezione perché sono proprio stati gli atleti del CIP, cioè le società in cui militavano questi atleti a segnalarci veramente, diciamo, gli atleti con dei risultati incredibili che hanno avuto, sia un esempio l'Olimpia dei sordi che noi non sapevamo neanche che esistesse abbiamo avuto due risultati per quanto riguarda i premi Panathlon per un atleta disabile insomma abbiamo avuto tanti risultati, abbiamo avuto un risultato speciale che abbiamo dato a Karim che naturalmente secondo noi è in odore di Olimpia di Parigi Karim è un atleta disabile non vedente che naturalmente non aveva potuto prendere il premio Panathlon pur essendo in età perché l'aveva già ricevuto e quindi chi riceve due volte lo stesso premio non può ripetersi insomma almeno per questo regolamento che abbiamo fino adesso può darsi che lo cambiamo in seguito Alla base dei premi Panathlon l'etica sportiva e anche questo abbinamento tra risultati sportivi e scolastici Certo perché nella domanda che fanno per essere ammessi al concorso che facciamo l'abbinamento è fondamentale, abbiamo sia i risultati sportivi che quelli che dichiariamo noi in quanto non possono essere ammessi, sono ricevuti risultati almeno nazionali a livello nazionale, europeo, mondiale, olimpiadi eccetera e per quanto riguarda la scuola abbiamo la dichiarazione della scuola per gli ultimi due anni che abbiano avuto naturalmente un eccellente risultato come bravo atleta e eccellente studente Tennis torna alla Coppa Davis in Emilia Romagna e più precisamente a Bologna dopo 46 anni e lo fa in grande stile ospitando uno dei quattro gironi della fase finale la manifestazione si terrà dal 13 al 18 settembre prossimi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno e vedrà protagoniste quattro squadre tra cui la nazionale italiana ma anche l'argentina, la Croazia e la Svezia ritorna così la più antica competizione sportiva mondiale per squadre nazionali allora sentiamo Binaghi e Volandri durante la presentazione in regione pochi giorni fa Cento sono gli anni di partecipazione della nostra nazionale alla Coppa Davis quindi credo che questo dato dia più di ogni altro l'idea di quanto importante sia la Coppa Davis per la storia della nostra federazione e dico anche per la storia sportiva del nostro Paese ci abbiamo messo molto ma torniamo io credo nel momento migliore della nostra storia in un momento nel quale abbiamo grandi successi sportivi al maschile ma adesso anche qualcuno al femminile un momento nel quale da un punto di vista organizzativo abbiamo le più grandi manifestazioni sportive d'Italia gli internazionali d'Italia sono state una grande festa di popolo la più grande della storia dello sport italiano e quindi il tennis ha raggiunto una popolarità straordinaria che mai aveva avuto prima merito anche naturalmente dei nostri giocatori Ci aspettiamo un grandissimo pubblico da Bologna io ritorno un po' a casa, io ho vinto dei titoli in Serie A proprio al CRB di Bologna quindi è un po' per me un ritorno a casa il team l'abbiamo costituito, la squadra è costituita il concetto di squadra soprattutto è quello che a me piace particolarmente sono tutti a disposizione ovvio che per ora tutti insieme non sono riusciti ad averli quindi quella è la parte più delicata e spero che per settembre sia così però dal punto di vista della loro disponibilità e di quanto tengono questa Coppa Davis nessun dubbio seppure dopo un lunghissimo digiuno rivedete la nazionale di Coppa Davis nella vostra regione soprattutto la vedete in un momento nel quale in prospettiva, diciamo nel meglio termine noi non vogliamo più essere dei partecipanti ma vogliamo ambire al successo di questa prestigiosa manifestazione e con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica sera e vi ringrazio per la visione